Armie Hammer, il noto attore statunitense, sta affrontando un periodo particolarmente difficile, tanto da decidere di vendere la sua automobile a causa di problemi finanziari Le sue dichiarazioni recenti rivelano uno spaccato toccante della sua vita dopo le gravi accuse di abusi sessuali e cannibalismo che, nel 2021, lo hanno allontanato dal panorama cinematografico di Hollywood In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa vicenda e il significato di tale decisione per la sua vita personale e professionale Le difficoltà economiche di Armie Hammer.Un apostrofo attività in crisi dopo le accuse Da quando le accuse contro di lui sono emerse, la carriera di Armie Hammer ha subito una brusca battuta d'arresto Nonostante non sia mai stato incriminato, le sue possibilità di lavorare nel mondo del cinema sono diventate sempre più limitate Questa situazione ha portato a una serie di difficoltà economiche che lo hanno costretto a vendere beni personali, tra cui l'amata automobile Nel video pubblicato su Instagram, Hammer ha descritto il suo dramma personale, sottolineando come, pur avendo amato profondamente il suo pick-up, non possa più permetterselo Un futuro in certo punto La crisi non riguarda solo l'auto, ma mette in evidenza una precarietà lavorativa e finanziaria più ampia Hammer ha dovuto rivedere il proprio stile di vita, abbattendo le spese quotidiane e rimanendo in preoccupante difficoltà nell'affrontare costi essenziali come quelli della benzina La sua vita sembra essere diventata una lotta costante per mantenere un equilibrio finanziario, e i riflessi di questa battaglia sono evidenti nelle sue parole e nel suo comportamento Il video di Armie Hammer e le emozioni espresse.Momento reale e vulnerabile Nel video che ha condiviso, Armie Hammer appare visibilmente emozionato mentre parla della sua situazione La sua frustrazione è palpabile mentre racconta di quanto abbia speso in benzina dopo il suo ritorno a Los Angeles Ha evidenziato il conflitto tra il suo amore per il veicolo e la necessità di far fronte a una dura realtà economica Le sue parole non solo rivelano la gravità della sua situazione, ma offrono anche uno scorcio della sua vulnerabilità, rendendolo un personaggio più umano e identificabile Riflessioni sul passato.Hammer ha anche fatto riferimento a momenti indimenticabili trascorsi nel suo pick-up, tra cui viaggi su strada memorabili e ritorno a casa dopo la nascita dei suoi figli Questi ricordi lo legano a un tempo più felice, accentuando il contrasto con la sua attuale condizione La gioia e la nostalgia si mescolano nel suo racconto, mostrando le sfide emotive oltre a quelle economiche che sta affrontando Una nuova fase nella vita di Army Hammer.L' arrivo della macchina ibrida Tuttavia, nonostante la tristezza per la vendita del suo pick-up, Hammer cerca di rimanere positivo Ha annunciato che verrà sostituito da un'auto ibrida più economica, evidenziando come stia cercando di adattarsi a questa nuova fase della sua vita Probabilmente ci metterò circa 10 dollari di benzina al mese, ha detto, suggerendo una strategia concreta per affrontare la sua situazione finanziaria Messaggi di rinascita.L'attore ha concluso il video sottolineando la volontà di ricominciare da capo, profetizzando un nuovo inizio il giorno del suo compleanno Con l'acquisto della nuova automobile, un cambio di residenza e una nuova vita a Los Angeles, Hammer esprime la sua determinazione a guardare avanti nonostante le difficoltà passate Questo approccio rappresenta non soltanto una reazione alla crisi attuale, ma anche la volontà di affrontare il futuro con speranza Armie Hammer continua il suo percorso attraverso sfide che hanno profondamente inciso sulla sua vita personale e professionale, mentre cerca di ricostruire e trovare la propria strada